In person, in person, in person, in person, in person, in person. Benvenuti al Giuseppe Meazze in San Siro. 70.500 spettatori per questo preliminare di Champions League fondamentale per la stagione del Milan. Prova a recuperare la difesa del Milan. Dida! Dida! E ancora Milan che prova con Seedorf. In area di rigore, Kakà, ancora Kakà, il sinistro! Seedorf, buona la girata in avanti, ancora Kakà, è libero Inzaghi, Inzaghi in area di rigore, su! Pippo Inzaghi, 1-0! Prova ancora il Milan con Serginho, non arriva. Calcio di punizione affidato a Pirlo, cerca la porta! Ancora Inzaghi, vorrebbe l'1-2, libera però Kakà, in area di rigore, Kakà ancora. Cerca lo spazio per il passaggio al centro, Girardino! Esaurito al Maracanà di Belgrado per questa sfida di ritorno dei preliminari di Champions tra Stella Rossa e Milan. Il traversone di Serginho, cerca il secondo palo in... Kakà, il pallone per Cafu che lascia scorrere, c'è Inzaghi al centro, ecco la palla per noi! E' super! Pippo Inzaghi, ancora Inzaghi, 1-0! Seedorf, cerca la giocata, Seedorf, vuole 1-2, palla di ritorno di Kakà, splendida Seedorf! Il traversone verso il centro, la palla possa, Djokic! Ancora Kakà, taglia in due la difesa, Kakà in area di rigore, grande il dribbling, Kakà ancora da solo, Kakà! Palla fermata, arriva Seedorf! 2-0, Claren Seedorf! Bisognare 4 gol in presa disperata, il pallone però è ancora in area di rigore, c'è Djokic al centro, ecco il pallone per lui! E accorcia le distanze, la Stella Rossa 2-1 ma manca ormai poco, qui il Milan batte anche a Belgrado la Stella Rossa per 2-1. Stop di Beto, Gurkuf, grande personalità nell'avvio di Gurkuf, grande palla dentro, Gattuso! E c'è la respinta di Sorrentino, primavera, palla gol per il Milan, 12 sul cronometro! Arriva il traversone, Nelibasic, dita! Capetano, si arriva attraversone di Maldini, Nelibasic, super! Beppo Nelibasic! In area di rigore, secondo palo! Yeah! Gurkuf! Cafu! Palla retratta, Kakà! Corridoio per Seedorf, tocca appena, Nelibasic, prova a fare movimento, calcio di rigore! Kakà! Arbitro manda tutti sotto la doccia, finisce 3-0 per il Milan! Nian Klosky va al cross, Gilardino! Pensione regolare, attenzione, Kakà davanti al portiere, porta vuota, Kakà si allarga, il tiro! Esterno della rete! Gattuso difende le pallone, attacca il Milan in verticale per Gilardino, in aria, Gilardino il tiro! Bodmer, colpa di testa, strepitoso Dida! Kakà e prova, Dida! Movimento di Inzaghi, palo in verticale per lui, attenzione in aria, Inzaghi! Parte il tiro, Silva! E finisce qui, esulta nei tifosi dell'Illa! Dallo stadio, Cosa-Vanderstock di Bruxelles, Anderrecht, Milan! Palli in verticale per Inzaghi, al volo, Inzaghi! Fondo della cross, Olivera! Il suggerimento di Kakà, attenzione, taglio di Inzaghi, Kakà, il tiro! Rete! Rete! Attenzione, pali in verticale per Scite, in aria, Scite, il tiro! Dida, strepitoso! Colpo di testa, attraversa! Scite, colpo di testa sotto porto, Dida! E finisce qui, il Milan, 10 contro 11, come a Bruxelles! Pallone, Seedorf, per Gilardino! Va giù! Rigore! Ed è calcio di rigore per il Milan! Parte Kakà! Il Milan in vantaggio! Al sesto minuto, trasforma il calcio di rigore! L'erdinale, Capù al centro, Kakà! Ed è cato! Processo di palla di Kakà! Una tripleta! Battuto l'angolo dall'Underlecht! Che trova il gol! Brocchi! Per Gilardino, posizione regolare! E Alberto Gilardino! Allora finisce qui, con il successo del Milan! Nello stadio dove la Milan di Capello raggiunse la sua vetta più alta, la Milan di Ancelotti cerca e la passa per gli Ottai! Cerca sul secondo palo, Seedorf al volo! Subito per Inzaghi in aria, Inzaghi il controllo, Inzaghi! Sorrentino prodete! Per Inzaghi c'è un ripalo, attenzione, Inzaghi in aria, Inzaghi il tiro, ancora Sorrentino! Parte Giulio Cesar, palla che gira a rete! E il vantaggio dell'EK, esecuzione impeccabile, così Giulio Cesar! Inzaghi! Palo! Con l'inserimento Manduca, un rimpallo, Dida! Poi Liberopolo, attenzione! Liberopolo, forta volta! Palla! Giulio Cesar al volo! Dida per il Raco! La conclusione, Calas con una mano! Arriva la conclusione, deviata! E termina fuori di un soffio! Ma lui in effetti! E Calas deve mettere la manona! Prova ad andare, De Wings in aria di rigore, De Wings ancora! Calas! Ecco il pallone per Inzaghi! Traversa, clamorosa! In aria di rigore Inzaghi ancora a sinistro! Bodmer, Keita si è infilato bene! 2-0 Lille! Straordinaria azione di Keita! E' proprio Cavai che prende il pallone! Bodmer! Splendido qui Calas! Cavai! Traversa! Traversa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Al centro c'è Venegor! Miller prova la conclusione! Regolare, Gilardino in aria! Gilardino! Per Gattuso entra in aria! Coloschi stringe per il cross, inzaghi! Cacà entra in area, Cacà! Milan in vantaggio! Due minuti, venti secondi dal supplementare! Cacà ha fatto tutto lui, ha fatto tutto bene! Il Milan intravede i quarti! Prova Pirlo! Finisce qui! Il Milan ai quarti di finale della Coppa dei Campioni! La Coppa dei Campioni! La Coppa dei Campioni! La Coppa dei Campioni! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pippo Inzaghi, il suo sesto gol in sei partite al Bayern. Palla in aria. La palla rimane lì, Podolski, la parata di Dida. Passa alla gara. Van Bommel sul fondo. Van Bommel, attenzione, il destro. Dida con i pugna. Fa il limite dell'aria. Kakà fa tutto da solo. Kakà ancora. Kan, l'uscita. Tira invece Hargraves. Alla fine... Il Milan ha dimostrato... Kakà, posizione regolare, limite dell'aria. Sinistro. Manchester United, Milan. Questa non è una partita come tante altre. Questa è la semifinale di Champions League tra due squadre che hanno fatto la storia del calcio. Questo non è un semplice stadio di calcio. Questo è l'Hall Trafford. Il teatro dei sogni, il mito. Notte da brividi a Manchester. Per Emma Ambrosini, palline verticale. Attenzione, Rune in aria. Rune, il tiro. A vuoto Dida. C'è un rimpallo, porta a vuoto. Rete. Vontaggio del Manchester. E cross in aria. Al volo, il tiro di Carrick. Dida. Morbide in aria. Ambrosini. Stacca bene, colpisce male. Facile Van der Sar. Per Kakà che accelera. Kakà in area del rigore. Pallo sul sinistro. Rete. 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 Kakà. Il team. Quindi la difesa del Manchester United doveva preoccuparsi anche di lui. Si è allargata. C'è la pallina in aria. Giggs. Colpisce benissimo. Prendestro. Ronaldo prova il tiro. Gran botta. Dida. C'è l'ingresso in aria ancora. Kakà. Stava del portiere. Kakà. Rete. 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 Kakà. Grandissimo. Zona tiro. Kakà. Parte il tiro. Va ad avversare in angolo. E ti posso dire che qui Van der Sar è stato molto bravo. Parte Giggs. Palla tesa. Al volo. Carrick. Kakà in aria. E il tiro. Si è allarcato troppo. Copertura il cross morbido. Kakà. Il cucchiaio in aria. Runei. Runei. Rete. E qui ha fatto un grande lavoro scorso davvero. Ha messo una palla. E non sono riuscita a rinviare. Pallo. In due a vuoto arriva Fletcher. Dida. Dissimo Dida. Ha aspettato. Un occhio straordinario accompagnato. Il partito di pallone. Pirlo è la destra. Si allunga Van der Sar. Ronaldo. Doppio passo su Brocchi. Zona tiro. Ronaldo. Esterno della rete. Ha toccato Dida. Angolo. Non so con l'arbitro. Runei. Ha attaccato Anessa il tiro. Rete. Runei ha fatto un gol incredibile. Con una cattiveria. Con una voglia. Con una forza. Entrano in campo. La tensione sui volti dei protagonisti. C'è il mondo intero che guarda questa sfida. Le squadre sono schierate. Attenzione che parte Kakà. Si muove Inzaghi. Accelera Kakà. Cerca la percussione. Kakà in aria di rigore. Kakà. Parte il tiro. Anche Ambrosini in aria. Pirlo basso. Ha cercato Kakà. Il tocco di Gattuso. Attenzione al limite. Seedorf. Il tiro. Van der Sarprodezza. Aspetta che il Milan si sbilanci. Attenzione all'inservimento di Seedorf. Gira di testa per Kakà. Kakà dal limite. Parte il tiro. Rete. 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 Perfettamente di collo sinistro. Bravi tutto il Milan. Il Kainz dal fondo. Il lacrosse. Inzaghi non ci arriva. Attenzione all'invito. Seedorf. Prova a liberare il destro. Seedorf. Vai percussione. Il tiro. Rete. 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 Seedorf. Uno che ha vinto tre coppie di campioni con una tre squadre diversa. Se è meglio questa partita in semifinale perché lo spettacolo è talmente bello. Attenzione all'invito del cross basso. Inzaghi. Grande girata. Palla fuori. Attenzione che parte Kakà. Grandi foccate verso l'aravversario. Di fronte a Seminic. Duelle in velocità. Kakà in aria. Kakà. Rientra sul sinistro. Kakà. Porta vota. Attenzione. Inzaghi. Non ci arriva. Ronaldo. Adesso in difficoltà. Il Milan. Ronaldo con l'esterno. Palla in aria. Runei. Non ci arriva. Vuole il rigore. Tutto regolare per De Blecher. Edof. Kakà centralmente si inserisce. Il pallone per lui. Kakà va in percussione. Kakà. Palla sul sinistro. Il tiro. E la deviazione. C'è una deviazione. Spiazzato Van der Sarra. Palla sul fondo. Milan vicino al terzo gol. A parte Girardino. Verso l'area avversaria. Girardino. 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 Rete. Rete. Alla squadra avversaria. Poi metterla dentro da lì non è mai facile. Gerard. Seidorf. Rischia. Jankulowski perde il pallone. Il Milan. Penaltinare. Adida non trattiene. Centro c'è Inzaghi ma in fuorigioco. Kakà. Destro. Reina. C'è la sciabia Alonso. Scivola. Penante lo presa. Gli strappa il pallone. Attenzione a Gerard. Vinta il tiro. Gerard al centro. C'è Inzaghi. Tocca Otto per ultimo. Fischia l'arbitro. Trova. Girard. E' ancora Gattuso. Qui prende un rischio. C'è Gerard. Che finisce un ricordo. Si basa in giro. Gerard. Gerard. Vinto. Cosa fa con Reise. Sinistro. Vinta. Dentro per lei. Inzaghi. 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 Croucha. Croucha. Contestro. Direi cazzo d'angolo. Il suo realizzatore come Super Pippo Inzaghi. E' ancora la lenta. Que noggricдая. Viva. 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 Va pensannya. Viva. Viva. L'anticipo rispetto al recupero che era stato previsto, il Milan vince la settima Coppa dei campioni della sua storia, lo fa da Nene soffrendo vincendo per 2-1. La sua storia, lo fa da Nene soffrendo per 2-1.